Festival del gol tra Aurora, Alto Casertano e Vastese in un match più complesso del previsto sono gli Aragonesi a portare a casa l'intera posta, vincendo per 2 a 4, non senza soffrire contro la Corriace a formazione campana in un finale al Cardiopalma. Pronti via, gli abruzzesi passano pasticcio difensivo dei locali. Stivaletta ringrazia e firma il vantaggio dopo soli 120 secondi di gioco. Il primo tempo scorre via senza cuti lasciando presagire un match con poche emozioni. Quanto mai sbagliato però, la seconda frazione è di tutt'altra pasta. Dopo soli 3 minuti, doccia ghiacciata per gli Aragonesi. Romeo da posizione impossibile trova il Pertugio vincente pareggiando per i suoi. Rispondono gli Adriatici, Monza pesca stivaletta. Questa volta il numero 10 manca totalmente il bersaglio grosso. Azione fotocopia, qualche giro di lancette dopo. Ficara, apertura panoramica per Altobelli. Griffa questa volta la rete che vale l'1-2. Partita finita neanche a dirlo, d'orgoglio l'Aurora conquista un penalty per fallo su Amabile. Dal dischetto Mancino spiazza di Rienzo e impatta il match. Si arriva così al novantesimo. In un finale vietato e deboli di cuore, Alessandro attacca la profondità con lucidità, scarica al centro e trova il rimorchio vincente di Alonzi. Mancino però oggi in giornata di Grazia non ci sta e dai 30 metri fa trasalire di Rienzo e compagni. A tempo scaduto però scafetta, cost to cost vincente. 2 a 4 e 3 punti thriller in casa vastese.